Davies Cup, Francia vicina alla finale Sulla carta, confronto in pari. Il campo, però, si conferma giudice unico e prolunga l'instabilità, rafforza l'incertezza. La Francia, nettamente favorita, ha proda all'ultima giornata senza il verdetto in tasca, in vantaggio, ma con un'opera da rifinire nel primo pomeriggio. La Serbia, senza Djokovic, culla un sogno, senza pressione alcuna sull'osso di Lille. Partita aperta, come detto, complice il colpaccio di Djokovic con un disattento Pouille. Tzonga a risistemare le cose, prima di un doppio assenso unico firmato Herbert, Maut. Difficile ipotizzare un tracollo transalpino, i padroni di casa partono con un cuscinetto importante in entrambe le partite. Alle 13, Djokovic, l'ultimo titolo proprio sulla terra, a Lione, gioca con Dusan Lajovic. Lajovic è un tennista che difficilmente incappa in controprestazioni, occorre quindi batterlo. Esiste un solo precedente, all'Australian Open 2017. 3-7 a 0 Tzonga, il gap, qui, potrebbe essere più ridotto, in virtù anche del buon momento di forma del 27enne di Belgrado. A seguire, Lucas Pouille. Fermata nella polvere, prima del torneo di Mets. Deve riscattare lo scivolone d'avvio, scrollarsi di dosso quella pericolosa indolenza che spesso inibisce un talento scintillante. Ha 23 anni e uno dei prospetti più intriganti del tennis mondiale, ma pecca in continuità. . La Slogere ha un bagaglio estremamente più limitato, ma conosce la superficie e ha poco da perdere. Terza fermata tra i due, la prima addirittura nel 2012, in un Futures. Nel 2015, qualificazioni a Dubai, riscatto Pouille. . Fondamentale, per la Francia, archiviare subito la pratica, non trascinare la contesa al quinto e ultimo incontro. Il rischio è di cedere il passo mentalmente, di cadere in una trappola all'apparenza lontana. Franza 2, Serbia 1. . . Filip Krajinovic, Nenad Simoniic, srb, 61-62-76-3. . . Jovi Friedt Zonga, fra, vodusan Lajovic, srb. Lucas Pouille, fra, vulas lodgere, srb. . .